Questo video parla di voi. Voi che non vi siete arrese mai, neanche quando inseguivate notizie angoscianti. Voi che vi siete tormentate nell'orrore. Voi che ci avete aiutato a ritrovare uno spiraglio di speranza. Questo video parla di voi, delle vostre mani. Le vostre mani che si uniscono per costruire il presente e si slanciano per raggiungere il futuro. Le vostre mani che trasmettono ogni giorno lo spirito indomito dei pubblici esercizi. Le buone mani, le vostre.